Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne sono riprese dopo la pausa estiva. Leggi anche, nuovo tronista UL già bersagliato dalla ex fidanzata sui social, la più grande mancanza di rispetto. Cosa spunta sui social? Il 13 settembre il programma torna su Canale 5, nell'attesa trapelano le prime indiscrezioni. Sarebbero infatti andati in scena i primi scontri tra due vecchie conoscenze del programma, Armando e Gemma. Non si sono fatti attendere nemmeno gli attacchi di Tina verso Gemma per i suoi ultimi ritocchi estetici a seno e labbra. Il pubblico attende di conoscere anche i nuovi tronisti in cerca dell'amore, si chiamano Roberta, Matteo, Joel e Andrea Nicole.